eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty oggi tre notizie bomba su call of duty black ops 4 quindi ragazzi spacca del tasto dei like arriviamo a 500 per supportare il tg informativo di call of duty partiamo con la prima notizia sembrerebbe che battle royale sia presente come vi dicevo alcuni giorni fa all'interno di call of duty black ops 4 però sembrerebbe che la versione per nintendo switch offrirà soltanto questa modalità infatti ci sono nuovi rumors su questa attesissima modalità che dovrebbe arrivare per la prima volta nella saga di call of duty dopo call of duty online e secondo questa indiscrezione che ho fatto il giro della rete sembrerebbe che la nintendo switch proporrà soltanto questa modalità ancora comunque è da confermare sia la modalità per tutte le piattaforme sia questa notizia per nintendo switch passiamo alla seconda notizia relativa all'evento che ci sarà il 17 di maggio come ben sapete ci sarà questo evento che andrà a svelare al mondo intero call of duty black ops 4 quindi che cosa accadrà durante quell'evento sono arrivate nuove informazioni direttamente da game intel sembrerebbe che il reveal trailer di call of duty black ops 4 ci sarà al jet center di howton a los angeles e che il gioco sarà addirittura giocabile durante l'evento il jet center è a 3,8 chilometri dall'aeroporto di los angeles e si trova a 7 miglia dalla spiaggia a 20 minuti dal centro di los angeles è una posizione che sicuramente vi risulterà molto familiare perché activision ha utilizzato questa postazione per svelare destiny 2 quindi sembrerebbe che durante l'evento tutti i partecipanti appunto che si troveranno appunto al padiglione per vedere l'annuncio di call of duty black ops 4 potranno giocare alla nuovissima modalità battle royal su call of duty sarebbe veramente una cosa importantissima e mai vista prima al primo evento di annuncio appunto del titolo di call of duty quindi tanta carne al fuoco chiudiamo questo video informativo con una notizia importantissima perché sembrerebbe che nelle ultime ore activision stia inviando a diversi utenti americani un sondaggio per capire che cosa vogliono nei prossimi call of duty e una delle domande più importanti è relativa ai sapi drop cioè cosa volete all'interno delle casse che ci saranno all'interno dei prossimi call of duty tra cui call of duty black ops 4 bene ragazzi sembrerebbe che nel prossimo call of duty secondo le ultime indiscrezioni ci saranno all'interno dei sapi drop i perk avete capito bene sembrerebbe che i perk non si otterranno più attraverso il sistema di progressione che abbiamo visto con la creazione della classe bensì per che li potremmo trovare all'interno delle casse di rifornimento ancora non è stata confermata questa indiscrezione però sta facendo il giro della rete nelle ultime ore sarebbe una cosa veramente molto ma molto particolare e mai vista prima sempre nella saga di call of duty ovviamente rimanete sintonizzati ragazzi perché sto lavorando tanto nuovo materiale per voi per sapere tutte le ultime notizie sul mondo di call of duty voi continuate a supportare i video con un bel mi piace arriviamo a 500 per il prossimo appuntamento con il tg informativo di call of duty e noi ci vediamo con tanti nuovi video grazie a tutti Grazie a tutti.